Genera una ragazza di vent'anni chiamata Amanda. Amanda, lo sai che una botta te la darei? Amanda ha la faccia piena di brufoli. Momento, 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 non te la voglio più dare! Ha molti più brufoli. Madre mia, se non vuoi diventare così seguimi! Tutti prendono in giro Amanda. Lasciatela in pace a solo dei piccoli vulcani. Si chiude in casa a soffrire. Da quando Amanda è maschio? Un giorno navigando su internet scopre una crema miracolosa che elimina i brufoli in un solo giorno. La compra e le arriva direttamente il pacco a casa. Amazon Prime EA. Applica per la prima volta la crema. Miracolosamente i suoi brufoli scomparono. Amanda riesce ad ottenere una pelle morbida e liscia. Ancora più morbida! Ma cominciò a manifestarsi un effetto collaterale. Il suo viso si stava gonfiando. Mio Dio! La sua faccia continua a gonfiarsi. Il suo viso era ormai più grande del suo corpo. Non riesce nemmeno a stare in piedi! Furiosa! Va a vedere il nome del brand della crema che ha usato. Qual è il nome del brand ChatGPT? Il suo viso! La sua faccia è lunga.